È partita in queste ore alla Camera di Commercio di Verona la giornata di selezione per gli 80 assistenti di volo e voluta da Neos, la compagnia aerea del gruppo Alpitour. I ragazzi selezionati sotto i 30 anni saranno inseriti progressivamente entro la fine del 2018. La giornata di oggi è finalizzata a trovare degli aspiranti assistenti di volo. Una volta individuati, questi ragazzi verranno inseriti in azienda e seguiranno un percorso di formazione della durata di circa 4 mesi. Circa 150 i candidati che si sono presentati oggi e che se passeranno il test dovranno affrontare altri due step, quindi una prova in lingua inglese e una di cultura generale, per poi concludere con un colloquio individuale. Come ti senti adesso? Sono un po' agitato, però confidente. Credo bene, anzi spero, perché questo è sempre stato il mio sogno, mi piace moltissimo viaggiare. Cosa ti ha portato per questo lavoro? Sì, credo di sì, perché ho fatto già la gente di terra e mi piaceva e credo di essere stato bravo in quel lavoro e che volevo cominciare una nuova esperienza. È sempre stato il mio sogno, anche perché io amo viaggiare, sono stata in qualche parte del mondo, quindi secondo me viaggiare lavorando è il lavoro più bello del mondo. Un sogno che per qualcuno si è già realizzato. È molto bello perché riusciamo a vedere dei posti che magari altre persone non vedrebbero in una vita, magari in un mese sei già stato in due continenti, tre, in molti stati.